il colpo è andato abbastanza bene anzi è filato addirittura forse fin troppo liscio avete prelevato il robottino nella sua cameretta di piombo e mentre tornavate avete assistito alla scena del povero Dwight Manson che veniva affreddato da questi uomini vestiti di nero con questa pecora nera sulla uno scratch sulla sulla spalla destra sono passati un paio di giorni avete preferito non fare niente innanzitutto perché dovete capire meglio come muovervi e in secondo luogo per far calmare un po' le acque perché nel frattempo Night City sta diventando un inferno le proteste e le rivolte contro le megacorporazioni si stanno intensificando le dichiarazioni di jazz stanno alimentando questo fuoco della rivolta come come se stesse semplicemente gettando benzina su benzina la risposta del governo non si è fatta aspettare la Militech sta iniziando a invadere le strade di Night City e le operazioni di questa unità nera stanno iniziando a diventare sempre più famose la chiamano la Black Sheep la pecora nera ditemi che cosa avete fatto in questi due giorni allora allora io innanzitutto ho fatto piazzare il robottino in una zona in un qualche edificio in un posto sicuro per fare in modo che comunque non venisse scoperto e poi ho chiesto ai ragazzi in particolare a Tool di dargli un'occhiata perché sono molto curiosa di sapere che cosa nasconde quindi gli avrò dato un'occhiata che occhiata gli hai dato cioè cosa hai guardato esattamente beh innanzitutto se c'è qualche tracciatore e nel caso ci fosse ovviamente l'ho rimosso secondariamente cercato di come dire interrogare la sua il suo mainframe per capire se c'è qualcosa di nascosto all'interno che non sia evidente così ha un occhio inesperto fammi un teore di interfaccia il robottino è pulito nel senso che non ha niente di diverso rispetto a un classico robottino da sminatore della zirafa comunque un classico robottino da lavoro e inoltre il suo codice stranamente ti sembra addirittura uscito di fabbrica ma sai bellissimo che non lo è come se l'avessero resettato sì come se fosse 100% certificato quello che ha il suo interno questa cosa mi convince molto poco sicuramente perché le opzioni sono due o l'ha fatto la zirafa oppure chi l'ha fatto è molto molto bravo però se non riesco a valutare nient'altro non riesci a entrare avresti bisogno di cioè è un lavoro per gente con molto più tempo e skill molto più alte sì ma non mi denigrare così ma vabbè però e beh e allora niente no niente non sei riuscito sì sì mi giro verso Roxy e a un certo punto mi faccio boh questo mostriciatolo sembra appena uscito di fabbrica potresti semplicemente accenderlo sono curiosa di sentire cosa da dire beh sì certamente holà robottino vai quando provate ad accenderlo ripete in continua sempre la stessa frase portatemi portatemi dalla piccola alba portatemi dalla piccola alba io mi inginocchio davanti a lui e dico e dove si trova piccola alba questo io non lo so se ti vuoi che dovete portarmi da lui beh ma portati da lui dobbiamo sapere dove si trova o almeno avere un indizio è possibile che abbia lasciato dentro di te un indizio per trovarlo tool tu delle informazioni su mephistopheles in realtà le hai sì le avevo anche ricavate la volta scorsa se non mi ricordo male sapevi che è ancora attivo questo mephistopheles sulla scena anche se raramente si fa vedere nella rete però ogni tanto qualche colpo lo fa e gli unici colpi che ha fatto comunque collaborazioni che ha fatto le ha fatte coi voodoo boys che sapete essere una famosissima gang di booster comunque una gang di netrunner di origine haitiana e che faceva parte l'altra cosa che avevi saputo è che mephistopheles faceva parte di una crew chiamata la legion of heaven di cui facevano parte altri tre tizi un tale azrael un tale lilith e un tale samael ok beh a questo punto mi rivolgo a loro li faccio beh potremmo partire a questi voodoo boys quando dici questa cosa siete in un deposito poco fuori sulla nella periferia di night city nella zona magari un po' più portuale quindi ci sono le merci non c'è tanto giro e si sta abbastanza tranquilli potete vedere dalla finestra del del deposito che un manifesto pubblicitario che sta mandando la la pubblicità della di un nuovo fucile d'assalto della militech di colpo si interrompe diventa tutto nero buonasera night city oggi parliamo di un fatto molto interessante lo sapete che a quanto pare alcuni senatori tra cui il vice presidente jonathan reed avrebbero si diciamolo avrebbero pagato dei voti comprati a pare organizzazioni mafiose tra cui la triade e sapete questi voti a cosa sono serviti a far vincere il primo mandato della presidente cres che poveretta non è neanche al corrente di questa cosa ops adesso non più ma voi vi starete chiedendo in cambio di che cosa sono stati comprati questi voti beh parrebbe che i senatori avessero garantito ai loro amici mafiosi di fare qualche piccola pressione sulla sulla dea affinché lasciasse stare i loro affari questa è buona sipario buonanotte night city sì 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 perciò io non ero lì con loro quindi in realtà questo posto l'ho utilizzato anche io un pochino come mio laboratorio per fare le mie cosine sintetizzare varie cose e e quindi spalla con la porta avete risentito beh era impossibile non sentire o vedere a quanto pare jazz sta facendo parecchio casino si stanno andando a fare beh l'importante che più casini crea e più è facile agire nell'ombra perché tra l'altro jj venendo verso il deposito hai visto due poliziotti due tutori dell'ordine che stavano trascinando fuori di casa una una ragazza aveva ancora il visore per il net running sugli occhi e urlava disperata no vi prego no non fatevi niente non stavo facendo niente di male e questi la iniziano a prendere a manganellate e piantargli i calci nelle nei fianchi questa piange e urla loro la prendono per i capelli la sbattono contro un muro la manettano e la buttano nella volante adesso vediamo vediamo se questa stronza non è una collaboratrice hanno acceso le sirene e si sono dileguati nella stessa velocità con cui sono arrivati questa è la scena che sta succedendo un po in tutta la città vi arrivano notizie disparate anche di net runner famosi che sono stati prelevati dalle loro case nella notte e portati via tra cui ad esempio redai questo era uno e uno dei net runner più famosi della città è stato arrestato e recluso che è un'altra net runner abbastanza famosa è stata arrestata anch'essa quindi vige un po un clima di sospetto attorno a net runner in questo momento probabilmente non sanno che pesci pigliare stanno cercando jazz in chiunque prego io non sono mai entrato in nessuna parte computer che cos'è cos'è beh tool di sicuro è meglio che tu non ti faccia vedere troppo in giro in questo momento ma mi dà l'impressione che che tu ti faccia vedere o meno anzi forse meno ti fai vedere io sei sospetto sì però più di tanto in un momento come questo di grande fermento non guardano molto qui alle sottigliezze probabilmente appena ti vedranno con un visore ti sbatteranno da qualche parte ma il mio visore sono due sono questi miei occhiali bellissimi le opzioni sono due o è perché sei molto bravo e non ti sei ancora fatto prendere oppure è perché sei una pipa in quel momento roxy ti scuida il telefono e lua e il numero di lua sì io accendo l'agent e dico sì risponde una voce maschile buonasera parlo con roxy sì con chi parlo questo non ha granché importanza ma ci siamo già visti solo che era un attimo impegnato l'ultima volta ascoltare la memoria sono quello che ha piantato un colpo in testa a dwight manson è presente dwight manson non mi suona granché come nome questo mi interessa fino a un certo punto la cosa che mi interessa è che portati al robottino a evood ti sto mandando l'indirizzo altrimenti la ragazza è morta chiude la comunicazione chi era mi zittisco un attimo credo che potremmo avere un problema quale problema penso che qualcuno sappia che è il robottino in mano nostra e che stia cercando di ricattarmi cosa che trovo davvero molto questo vuol dire che dobbiamo fare cosa secondo te perché io sinceramente me ne frega un caso quale sarebbe questo ricatto beh diciamo che ha preso una delle mie ragazze è carina beh tutte le mie ragazze sono carine ok allora ci sto per salvarla beh diciamo che se so un pochino come funziona qua a night city so che diciamo sottostare a un ricatto vuol dire essere già morti invece riempire di piombo chi ha fatto il ricatto potrebbe essere un buon modo per fare strada infatti sai chi ti sta ricattando no ma so dove trovarlo va bene quindi diamo lì cerchiamo un paio di colpi e risolviamo la cosa solo un piccolo particolare dovremmo portare il robottino no beh dobbiamo dimostrargli in qualche modo che abbiamo ciò che lui vuole se non si avvicinerà nemmeno portiamo la scatola del robottino nessuno è così ingenuo ti potrei stupire di quanta gente scema esiste il mondo in modo di modo ragazzi mi sembra un piano molto semplice prendiamo il robottino lo portiamo dove vuole lui lui sparisce ci riprendiamo il robottino vedi che tu parla la mia lingua facile per voi non vedo perché dovrebbe essere difficile per te non parlare la lingua è giusta bene allora ci muoviamo e faccio per uscire controllando la pistola controllo anch'io la mia pistola me la metto in tasca beh dovremmo trasportarlo questo immagino di avere un qualche tipo di auto o qualcosa del genere ce l'hai tu perfetto molto bene ci stai il robottino? ma quant'è grossa quant'è grossa questa scatola? è abbastanza anche perché è in piombo è abbastanza ma comunque non ho riuscito a trasportarlo va bene è parecchio pesante però facciamo che la tua quadra fa fatica sì molto basse se me lo permetti faccio così entriamo siamo bassi tiro su uno switch alzo e dai ci sta aspetta prima di andare di sicuro avrà pensato alla possibilità che gli facciamo qualche scherzo credo che chiamare qualche persona in più non faccia male e mi metto in contatto con i Philanthropic Vampires ok e appunto mi metto in contatto con il suo capo e dico ehi tesoro ti ricordi quel favore che mi dovevi? che favore? come che favore? ne vogliamo parlare di quella questione con i piragnas quella sera con i piragnas con i piragnas non fare il finto tonto con me scusa un attimo scusa scusami scusami un secondo ehi Vampirella puoi andare un po' più in là per piacere grazie sì no adesso no non si tocca adesso dopo grazie dicevi scusami dicevo quella questione per cui mi avevi detto cara Roxy ho un grande debito nei tuoi confronti ricordo ricordo hai ragione è vero noi non si dica che non manteniamo le promesse assolutamente ottimo quindi di cosa avresti bisogno cara Roxy? se ti dicessi che c'è potenzialmente da fare il culo a qualche corporativo ma dipende sai è una questione un attimo di che corporativi e quanto il culo bisogna fargli beh diciamo che in maniera ufficiale sarebbe uno solo però la questione potrebbe scaldarsi molto ma se temete per la vostra incolumità posso sempre chiedere a qualcun altro no 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 non si dica che che noi vampiri della notte non siamo pronti a rischiare la nostra pelle assolutamente sì no 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 mettici un po' un po' meno di sangue lì dentro no 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 che poi mi viene in volta stomaco no stai tranquillo ottimo dicevi scusami mi fa piacere che tu mi dica questo dunque ti manderò un indirizzo non tramite l'agent ti chiamo da poi ti richiamo da un telefono più sicuro va bene manderò un paio di mail allora sì discreti abbiamo bisogno noi siamo sempre discreti voglio dire ma la pena è possibile notarci ottimo ottimo allora gli aspetterò grazie dolcezza figurati hai un debito con me e ti attacca adesso sì ok partite vi recate al punto d'incontro sì mentre iniziate a guidare chi è che guida? moi mentre guidi pian piano inizio a vedere che qualche gocciolino inizia a bagnare il parabrezza la sera sta iniziando esatto la sera sta iniziando a calare su Net City e il sole sta tramontando oltre i grattacieli delle megacorporazioni facendo filtrare una nube rossa e grigia che si spande su tutta la città arrivate a Eyewood Eyewood è la parte un po' più abitabile di Net City l'appuntamento è in una zona però abbastanza isolata una piccola piazzetta chiusa in mezzo a qualche casermone residenziale abbandonato da molto tempo le gru e le le traversine e le e i lavori in corso la fanno da da padrone in questo in questo frangente della città sta iniziando a piovere arrivate col furgone appena scendete in mezzo alla piazzetta ci sono cinque uomini uno quello più avanti degli altri tiene una giovane ragazza inginocchiata con la pistola puntata sulla tempia ha il trucco rigato dalle lacrime e i capelli completamente bagnati si inghiozza e disperata questi cinque non hanno la minima espressione la minima traccia di empatia verso di lei che si sta disperando come pochi proxy tra l'altro ce la descrivi un attimo sembra una ragazza abbastanza giovane sulla ventina d'anni con questi tratti un po' appunto molto giovanili anche molto innocenti in verità e ha i capelli lunghi mori di shoe però per gli abiti che indossa si vede che comunque non è una ragazza dei cioè dell'alta borghesia diciamo è vestita proprio come le ragazze che circolano nel mio locale ok prego io appunto scendo dall'auto faccio cenno a voi per farvi portare il robottino e guardo davanti a me una situazione seria in verità molto molto pacata mi metto davanti a loro e faccio un cenno con la testa buonasera subito lua urla roxy ti prego aiutami ti prego mi vogliono uccidere ti prego mi ammazzeranno lei prova istintivamente quasi a scattare verso di te ma il tizio che la tiene stringe la presa e con la gamba le blocca parte del braccio sembra sapere quello che fa è una è una mossa da qualcuno che le arti marziale le conosce o comunque conosce i metodi di blocco sono vestiti tutti di nero hanno questa pecora nera sulla sulla spalla e adesso noti che quello che è davanti sul sul pettorale riporta un nome John Do buonasera riconosci che la sua voce è la stessa che hai sentito al telefono buonasera il robottino ce l'abbiamo siamo pronti per fare lo scambio se siete disponibili piccola domanda il robottino l'avete portato dentro la scatola o l'avete portato fuori dalla scatola domanda immaginavo dentro la scatola immaginavo dentro ok allora vi dicono John Do vi guarda in realtà non notate dove vi guarda perché ripeto hanno gli elmetti fino a questa altezza voi notate soltanto la parte inferiore tipo Batman sì tipo però hanno proprio è un casco non è una maschera e hanno tre tre ottiche verdi sull'elmetto vi fissa aprite la scatola perché carica la pistola e la punta verso la ragazza cioè e la preme ancora di più verso la ragazza apri la scatola non abbiamo niente da nascondere assolutamente apro la scatola la ragazza il robottino portatelo qua qualcuno porta la ragazza da noi la porto io a metà strada dai su facciamo una finita va bene allora sposto il robottino lui prende la ragazza non trattando la mano in realtà ma con sicurezza e la porta a metà strada la prendo io la scatola e la porto costa e la porto a metà strada penso io ok sicuro si sono più robusto di te prego quindi prendo questa questa cosa mi immagino la trascino no no vabbè mi segue mi segue ok ci segue mentre passo di fianco a Roxy mi giro per un attimo con uno sguardo del tipo se c'è qualcosa da fare è ora di farlo e proseguo io provo con cioè ad agguzzare l'orecchio eccetera per rendermi conto di quello che ci circonda e capire se per caso i rinforzi sono arrivati oppure no frammentura di percezione la pioggia sta cadendo sulla piazza qualche giornale stracciato inizia a diventare poltiglia sull'asfalto sopra i tetti delle case in costruzione in ricostruzione attorno a voi Roxy tu vedi due componenti dei tuoi amici vampiri ottimo arrivate a metà strada infatti una cosa è peculiare in quel momento Roxy mentre stai osservando la situazione quello che sembra essere il capo si chiama John Do tutti gli altri hanno solo un numero 0 1 2 3 lo vedo anche io no non lo noti sei troppo concentrato a vedere lui che si approccia stavo già per fare una bellissima battuta John Do si avvicina al fisico non è enorme ma al fisico atletico non è neanche particolarmente alto ti fissa con l'elmo ti sembra fissarti quasi negli occhi dopodiché un colpo parte trafigge la testa di Lua che cade per terra in una pozza di sangue Tur fammi un tiro d'iniziativa lo sapevo che dovevo andare io diamine non credo che sarebbe cambiato il risultato la mira non credo che l'avrebbe sbagliato no no un altro motivo Lua non ha neanche il corpo di Lua non ha neanche il tempo di cadere pezzi del suo cervello sono già arrivati sull'asfalto Ketul tu ti senti un un manto un manto di acciaio che ti colpisce in pieno il petto senti la cassa toracica che inizia a schiacciarti piano piano e fai 4 metri indietro di volo sono 15 danni 15 quello che avete visto dall'esterno è stato John Do che ha sparato il colpo quasi contemporaneamente probabilmente ha un acceleratore neurale si è abbassato ha caricato il sinistro che in quel momento avete notato essere un braccio biomeccanico e ha scaricato una potenza devastante sul sul torace di Tull tra l'altro il pugno si è pure deformato per dare più impatto ancora al colpo beh io sputo fuori tutta l'aria che avevano i polmoni e non solo l'aria si infatti anche sangue immagino e vado appunto 4 metri indietro immagino cadendo 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 l'indietro guarda gli altri 4 andiamo portandosi il robottino con sé ok allora io il mio sguardo diventa assolutamente di ghiaccio nel momento in cui la vedo cadere a terra mi si spalanca la bocca e caccio fuori un urlo fortissimo non un urlo di paura proprio un urlo di rabbia incredibile scatto verso di lui proprio mentre si gira e nel mentre faccio questo scatto salto e praticamente apro una mano e nel mente che la apro degli artigli escono dalla mia mano e faccio un gesto per colpirlo alle spalle quello che succede è che estrai i wolves con tutta la rabbia e la forza che riesci a recuperare dal tuo essere scarichi questa queste lame di acciaio temprato diritte dritte sulla faccia di questo di questo verme di questo pezzo di merda che ha appena ammazzato l'amore della tua vita si noti che le tue lame arrivano sul suo elmo lo graffiano solo in parte ma per fortuna trovano un incavo nell'armatura e riesce ad affondare in parte le lame del sangue inizia a uscire dalla ferita lui si gira e subito sembra aver accusato il colpo un istante dopo sembra non averlo minimamente accusato si gira verso di te e con una mano sposta il tuo secondo colpo che stava per andare a entrargli direttamente sulla bocca gli altri si attivano ok io dopo dopo questa cosa vedo in realtà tool che è volato praticamente verso di me allora io mi metto vado davanti a tool tirando fuori la pistola mi rosto john e faccio e sparo il tuo primo colpo riesce a colpirlo il proiettile gli arriva dritto dritto verso la guancia il proiettile si compatta ed esplode graffiando la malapena scalfendo la la carota di acciaio che ha come armatura sotto il sotto la pelle si attivano i suoi amichetti ma i miei amichetti quando si attiva adesso te lo dico quando si attivano ok il primo di loro estrae un fucile d'assalto e spara una sventagliata di colpi nella vostra direzione totalmente a casaccio i colpi partono e poi dalla direzione che vanno preso iniziano a confluire verso di voi proiettili smart intelligenti quindi vi inseguono vi raggiungono proprio roxy si otto danni ok due proiettili ti colpiscono tool si arrivano addosso ma ti schivano che sono intelligenti sono intelligenti non ti attaccano non riescono a colpirti lo sanno jj dieci danni i tuoi due amichetti saltano giù dal dai dai tetti sguainano sguainano le loro catane tentando di saltare su due di questi energumeni non fanno in tempo neanche toccare suolo uno di questi apre la mano e delle raffiche di micromissili li colpiscono in pieno devastandoli il loro il loro rapporto è stato zero va bene ho capito i philharmonic vampire sono inutili perfetto nessuno li avrei sentiti sti qua no 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 sono fighissimi solo che non sono i più grandi pestatori del mondo e va bene non lo avevo sì esatto uno di loro si lancia verso jj fammi un tiro per di illusione per piacere questo con uno scatto del braccio fa aprire l'avambraccio che si apre in avanti e diventa una digitolama ti salta direttamente addosso cercando di infilartela e a quanto pare ci riesce 15 danni ok ok che in realtà sono forse a questo punto il più indietro di tutti sì c'è tanta acqua dove ci sono loro ha iniziato a piovere da poco quindi non ce n'è tanto non ci sono pozzanghere no non ancora certo non è che abbia molte alternative se non estrarre la mia pistola pesante quindi mi metto di fianco a jj estrago la pistola e direi che inizio su no si vado sul johndo anche io provo spari il tuo colpo sì di nuovo il tuo colpo colpisce johndo gli entra dentro l'armatura la scusami la la mimetica e vedi che gli passa da parte a parte non gli hai fatto sto granché però comunque sei riuscito ad entrare a ferirlo lui arretra leggermente con il con la spalla si mette una mano sulla sulla ferita e ti guarda e ti dice tu hai fatto il peggiore errore della tua vita faccia di merda e detto questo inizia a correre e correre verso di te posso muovermi anche eh sì puoi muoverti di tre metri massimo ok eh abbiamo un furgone giusto una macchina ah una macchina non un furgone sì e sei più lontano di te metri ok perché ti sei avvicinato eh sì anche andando indietro sei più lontano beh comunque mi avvicino alla macchina sì ok ti sposti verso la macchina quindi sei adesso dopo lo spostamento sei a due metri dalla macchina quindi ok perfetto potrai giunto ti carica tool ti carica e quando arriva a contatto con te entrambe i palmi delle mani le giunture si illuminano di azzurro di un azzurro molto intenso ti agganciano esatto e ti pianta le dita senti che le dita meccaniche iniziano a entrare dentro la tua carne ti solleva di peso e ti sbatte contro la la portiera della macchina che si piega avete presente la pubblicità quella del compianto Ionalomu con il furgoncino della Volkswagen fa lo stesso effetto ma che bello il contraccolpo sono 18 danni e e ha il braccio rotto oh bene quale quello non dominante ok che arrivo alle spalle di questo pezzo di merda e lo voglio colpire di nuovo ok riesci a a colpirlo di nuovo gli fai dei danni tu entri lui e adesso è occupato a spingere tool contro la macchina tu gli passi lateralmente e riesci a entrare in parte della sua del suo costato ma è fatto di acciaio il signorino non è un Adam Smasher però comunque c'è una delle placche sotto cutane tocca uno di loro e poi ci sei tu un colpo di arma da fuoco ti colpisce la testa in pieno quindi valuta se è l'armatura lì no perché sono 25 danni sono sotto il quarto sei sotto il quarto ok questo colpo ti ha preso e ti ha ti ha praticamente asportato parte della parte frontale solo del cranio per fortuna ma sei messo veramente male inizi a vedere tutto sfarfallare i rumori iniziano a rimbombare sei ancora in te ma non sai per quanto ti pieghi a terra inizi a sputare sangue vai disperato io ho in mente di fare una cosa ma non mi aspettavo di neanche io mi aspettavo onestamente però ha fatto un bel tiro sì un bel tiro beh allora faccio il giusto faccio il faccio il colardo come il mio solito ok un po' barcollante corro verso corro verso la macchina e le cerchi di però per far prima di tutto questo raggiungo una delle mie tasche qua nel costato subdermali subdermali e tiro fuori un boost ok e me lo faccio ok non devi tirare né fare niente subentra subito esatto proprio così giusto per svegliarmi un po' pianti la fiala nella tua giugolare e poi la pressione inizia a ristabilizzarti ristabilizzo corro vedo quello che sta succedendo e corro appunto verso i miei compagni ok nel frattempo Broxy sì speravo ti fossi dimenticata di due colpi di arma da fuoco colpiscono la tua gamba 19 danni no scusami 19 danni il primo il secondo non ha fatto niente un altro colpo ti raggiunge un'altra gamba 17 danni e che cazzo va bene sei quella più avanti di tutti giusto vi è chiaro che la situazione si sta mettendo molto molto male tu non sai se avrai mai più la la cassa toracica non hai idea non pensavi di poter provare tutto questo dolore insieme urli dal dolore le gli organi interni stanno iniziando a comprimersi e dal naso e dalla bocca inizia a fluire sangue senza controllo come se stessi quasi piangendo sangue urlo la mia camicetta esatto JJ tu sei riuscito a ristabilizzarti e soltanto in sottofondo alle tue spalle mentre cerchi di raggiungere questa macchina che è stata mezza cartocciata da un solo essere umano senti i colpi di fuoco dei tuoi dei tuoi nemici di coloro che stanno cercando di ammazzarti che stanno creando una cacofonia di proiettili e lame stretto lamenti è come se un macchina carne stesse lavorando le tue spalle Roxy tu pian piano senti come delle degli enormi aghe che ti trafiggono il corpo per ogni colpo che entra ed esce da una parte all'altra del tuo essere la tua vista inizia un po' affuscarti pensi tra te e te che questi vampiri non servono un cazzo no ma che sullo sfondo i loro organi sono spiattellati su una transenna John Do estrae l'arma ti pianta tool ti punta l'arma sotto il mento dici boh clicca e ciao flatline quando un'esplosione irrompe nella piazzetta una luce accecante di di occlude la vista completamente e crea un'onda d'urto che fa perdere la presa John Do e distoglie tutti quanti sentite in lontananza il rumore di un'auto che entra sgommando e attraverso le fiamme dell'esplosione si palesa a voi è un taxi giallo subito dietro subito dietro un cacatua con le ali aperte attraversa le fiamme urlando rotti strozzi non ci avrete mai e una un insieme di proiettili ed esplosioni iniziano a saturare questa piazzetta ma stavolta non è la black ship che spara e qualcun altro gg qualcuno ti prende per la collotta lei ti tira su è un braccio meccanico una donna con i capelli rossi lunghi bellissima ti osserva come se fossi neanche il peggior la peggior che in caglieria trovate in un mercato dell'usato e ti dice forza sali sali in macchina e facendo al taxi nel frattempo ricarica un altro colpo del suo arco mon amore e colpisce e colpisce con un paio di colpi si si perché sei rincoglionitissimo e scocca un paio di colpi verso uno di di quelli della black ship che viene colpito e cerca di rispondere al fuoco john do che è sotto di te tool abbiamo detto ha perso la presa sta per rincarare la dose quando tu non ti rendi conto che cosa un treno forse un treno in corsa lo prende di peso lo carica su e lo porta contro il primo muro a disposizione il primo muro prende la forma di john do che però non muore questo non sono molto preoccupato della sua salute in questo momento più della mia anzi siete preoccupati che non ce l'abbia esatto contemporaneamente dalle attraverso le fiamme vedete un affare alto 4 metri che poi si rivela essere un uomo dentro un esoscheletro con due torrette al posto delle braccia e inizia a sparare ovunque non verso di voi pezzi di merda siete venuti nel vicinato sbagliato e inizia ad aprire fuoco su tutti quelli della black ship il taxi dal taxi sgommando si apre la portiera del passeggero e un un tizio basso grassoccio denny de vito con la camicia hawaiana apre la portiera e quando apre la portiera delle i cartoni degli hamburger e delle bibite cadono da parte della dalla parte della portiera che aperte fa forza salite salite ci manda un nostro amico forza forza salite io riesco ancora a camminare sì sì no ce la fate ok trascinandovi trascinandovi perché però ce la fate la mia macchina io salgo sì sì beh io vedo una camicia città voiana quindi amico mio non puoi non fidarti di chi sei dalla parte del passeggero io ok roxy quando sei dalla parte del passeggero a parte doverti spostare questo appunto mucchio di carte di hamburger delle bibite noti che sulla parte del passeggero c'è scritto che dio tassista taxista oh mio dio senti ma sono troppo sconvolta per cringiare male in questo momento se ve lo state chiedendo ha anche i dadi di peluche sullo specchietto retrovisore benissimo ma scusa domanda il robottino il robottino per il momento dove l'avete lasciato ok non si è più mosso lo stavano portando via i tizi lo stavano portando via ma i tizi sono ancora lì vivi eh no non sono più lì il robottino è fermo lì in mezzo in mezzo a questa ondata di fuoco e di distruzione se tu chiedi e commenti ma il robottino si gira l'autista e ti dice non ti preoccupare ci pensiamo noi il robottino adesso è ora di mettervi in salvo e tu indica a te JJ avrei bisogno di un medico guarda che schifo che sei e non mi sporcare il il sedile che l'ho appena fatta lavare sta macchina non è assolutamente vero è lercissima è il taxi più lercio che avete mai visto non sto molto bene vabbè non mi preoccupo anche perché come dire ho un po' di mal di testa che io e quindi mi fiondo nella macchina entrate nella macchina il il taxi sgomma prima di partire questo cacatua si mette sulla sulla cima del cofano e vi guarda girando la testa certo che siete veramente degli strazi è normale che ci sia un cacatua che ci sta parlando no non è per niente normale ok perfetto non è normale che ci sia un cacatua e non è altrettanto normale che vi stia parlando perfetto ok beh diciamo che un po' di botte in testa l'abbiamo presa partite lasciate il luogo dell'incontro nel mente che ci allontaniamo io in verità senza girarmi però guardo nello specchietto retrovisore il corpo di lua che abbiamo lasciato dietro di noi però rimango fredda come come al solito non non esterno niente semplicemente la guardo allontanarsi diventare sempre più piccola per poi sparire noi non sapevamo no non credo che tu l'abbia mai detto ok ok fate qualche chilometro jj sviene momentaneamente dal dolore e butta la testa sulla parte sul poggiatesta del guidatore certo che quella gente non c'è niente da scherzare dice mentre guarda fuori dal finestrino chi siete voi e sta guidando noi ci chiamano in tanti modi qualcuno ci chiama com'è che ci chiamava legion per bene cos'è non fa niente dicevi ma abbiamo tanti nomi aella sa quella com'è che ci chiama i quattro dell'apocalisse io non lo so si lecca la mano e si dà una passata al riportino guardandosi nel nello specchietto retrovisore ci ha chiamato un un amico che abbiamo in comune e si può sapere il nome di questo amico in comune ma a quanto pare voi non lo conoscete si chiama archangel intanto io sto sputando sangue tipo adesso abbiamo il rendezvous con i ragazzi e poi vi riporto vi porto da lui finita in una piccola via secondaria poco a poco arrivano quelli che a malapena avete visto durante lo scontro c'è appunto il vostro autista c'è il treno che ha portato via John Do che assomiglia un sacco a Jean Reno in Leon grazie non mi veniva Jean Jean vedi questa bellissima donna fredda come come pochi con questo arco che in realtà noti avere la forma di un falco e in ultimo l'uomo che aveva ha fatto il suo ingresso sul sull'esoscheletro che però adesso non ha più ovviamente per questo infatti ci siamo non ci stava ve la siete vista brutta dice l'uomo dell'esoscheletro come è stato di John Do quella gente sono ossiduri siamo riusciti a farne fuori solo uno di loro ma è arrivato poi il trauma team non so in che condizioni fosse se fosse recuperabile ma John Do è ancora vivo sono riuscito giusto a rompergli un braccio niente di più dice Jean Reno se non fosse stato per me forse non saresti riuscito a farlo ma mi scusi c'è una signora qui mi chiamano il re e si abbassa e si si presenta siamo amici di Archangel ci ha detto che voi avete trovato una cosa molto preziosa per lui e è qua vedete che dietro di loro c'è il robottino vi prego di riportarlo in un luogo sicuro e di attendere un suo contatto mi dispiace per la sua perdita non ha intenzione di parlarci adesso? è troppo rischioso siete ancora ricercati per il momento nel senso che vi stanno attivamente cercando in questo istante quindi salite pure sul taxi di Henry vi pregherei di rimanere tranquilli finché non mi chiama ma ci stanno come ha detto lei cercando attivamente non crede che non abbiamo un luogo sicuro in cui tornare e cosa dobbiamo fare e guarda la ragazza e dobbiamo portare da Archangel lei guarda in un luogo distante mi sta cagando ah stavate parlando boh fate il cazzo che volete a me non interessa e se accende una sigaretta va bene allora è deciso vi portiamo da Archangel ottimo io ho tornato in vita nel mentre si si ti sei ripreso scusami volevo solo dire che forse il robottino non era in mani sicure da noi visto le forze in gioco io ovviamente mi giro verso la tipa e la guardo mon dieu che bella la vita la vedrai doppia anche probabilmente se sei salvato da un angelo come te è stata un'esperienza unica lei è voltata di spalle senti che commenta sei veramente bellissimo oh grazie lo so lei si gira non so come tu sia faccia essere così perfetto e noti che sta parlando il suo arco alza gli occhi e tu la stai fissando e ti dice stai dicendo qualcosa? l'amore non ti fa nemmeno più sentire quello che uno ti dice guarda e mi avvicino tutto un po' ammeccante con la ferita ti avvicini? te ne fa un altro dall'altra parte probabilmente ti avvicini? ti pianta con una velocità sovrumana un marrovescio da sinistra verso destra cioè dove non hai la ma dobbiamo stare molto con questi qua o possiamo andarcene spero ci paghino allora lo terrò con me questo schieno andiamo va e butta la sigaretta io mi premo contro una ferita e svengo perché non posso assistere a una cosa auto svengo almeno riposo ti devi jeje può darti comunque del primo soccorso e ti può mettere a posto la ferita ok diciamo che mentre siete in viaggio jeje ti può curare non è niente sei riuscito cioè non è niente fa male ma sei riuscito a metterla a posto quindi il braccio è ancora rotto ti fa ancora male ma è stabilizzata e quindi nei prossimi giorni guarirà ok in realtà poi con l'intervento di JJ potrebbe velocizzarsi ancora di più oppure te lo tagli e te ne metti un altro chissà andate nel covo di Archangel il robo flop Harry vi scarica lì davanti e vi dice per questa volta la corsa la paga Archie ma prossima volta prezzo pieno comunque è stato un piacere tante care cose e arrivederci e mentre non finisce neanche di dire arrivederci che già sta facendo un burnout sulla macchina e se ne sta andando via ah italiani nel mentre che lo fa io prendo uno dei miei telefoni usa e getta e scrivo un messaggio a Jacob dicendogli siamo compromessi chiudi il locale metti al sicuro le ragazze mi rifarò ok ok distruggo il telefono e lo butto ok Archangel Archangel è questa persona che come vi ho detto voi non l'avete mai visto ma in realtà l'altro gruppo si è privo degli occhi ha soltanto una una banda metallica e vede soltanto attraverso le telecamere che ha nel suo studio in realtà chi sta dietro il bancone del roboflop è questo Archie Kurosawa che è un amico di Archangel Archangel sta nel seminterrato e insomma Archangel vi spiega che vi stavate nel docchio da tempo perché avevate già avuto contatti con il robottino dal momento in cui l'avete ripreso lui ha iniziato a osservarvi e si dispiace sinceramente della tua perdita Roxy e vi dice tu l'hai osservato da tanto tempo e hai pensato di agire solo nel momento in cui le cose sono andate nello sfacelo veramente io avrei voluto fare di più ma è successo tutto così velocemente non potevo io non posso abbandonare questo posto e purtroppo le persone che ho chiamato come abbiamo visto eppure non l'hanno fatto loro sono arrivati appena possibile il problema è che dovete capire che ci sono altre cose che stanno succedendo in questo momento nei siti non siete le uniche anime che vanno salvate non siete le uniche che purtroppo hanno perso qualcuno di caro mi dispiace veramente ma purtroppo non potevo fare diversamente ora però vi chiedo solo un favore vi ho chiamati perché ho bisogno che voi andiate a recuperare una persona che persona in queste condizioni una mia amica vi rimetterò a posto io vi farò vi farò rimettere a posto io ho un amico che ha delle camere a uno studio con camere creogeniche potrà darvi una mano ma ho bisogno che parti a te entro due giorni da oggi per la prigione di Belmarsh a Londra dovete recuperare una mia vecchia amica e perché perché è l'unica che può analizzare il robottino allora tu vuol dire che sei una pipa non mi sembra il momento adatto di dire una cosa del genere sei proprio maleducato e noi cosa avremo in cambio voi in cambio avrete la mia protezione e io ho un po' di contatti in città e posso riuscire a a far perdere le vostre tracce quelle delle persone che eventualmente avete a cuore però la situazione è critica là fuori è l'inferno beh direi che non abbiamo molte altre alternative partite andate a fare quello che avete già fatto quando siete sull'aereo di ritorno piccolo inciso quando prendo le torrette eccetera eccetera massacro mezzo delle cose mi giro verso JJ faccio pipa chi esatto nel momento in cui state tornando avete preso l'aereo avete messo al sicuro Lilith siete in un aereo un aereo privato mi verso del champagne ti versi dello champagne c'è una hostess in realtà è carina sì ti dice desidera dello champagne signore sì desidero tanto champagne qua siamo in un posto vicino alle mie origini e allora forse desidererai anche questo e ti pianta una militech media in bocca stacco di scena sono successe delle cose che vedremo e sono passati altri giorni io stavo per chiedere una tequila sunrise ma vabbè esatto ma se il trattamento è quello e invece vabbè sto buono vedremo più avanti che cosa è successo in quel momento secondo me non mi hanno dato una tequila sunrise anche secondo me o forse te l'hanno data ma poi dopo ti è andato qualcos'altro sì sono passati vari giorni siete riusciti in un modo o nell'altro a cavarvela ne sei sicura di questa cosa sì ho fiducia in voi in un certo modo ce la dovremmo fare in un certo modo ce la farete vi trovate davanti all'entrata della del quartier generale dei Voodoo Boys avete d'altronde avete Mephistopheles da da contattare mi hanno detto che questi qua non sono persone molto simpatiche quindi abbiamo il robottino sì sì c'è possibilità che ci abbia già avuto a che fare con i Voodoo Boys domanda il robottino l'avete portato dietro o l'avete lasciato da Archangel tra l'altro Lilith è con Archangel adesso ecco visto che aspetta sto cercando il mio cervello sto cercando di andare in ordine cronologico per capire un attimo adesso abbiamo Lilith giusto ok che era l'unica che poteva che era l'unica che poteva entrare e guardare dentro il robottino giusto sì non l'ha fatto o l'ha fatto no vi ho detto che a quanto pare dato che il robottino continuava a ripetere portatemi dalla piccola alba ha guardato il robottino e con la neanche la benché minima espressione ha detto quei pezzi di merda sono gli unici che possono sbloccarlo ok che palle bene vuol dire che siamo fatti un viaggio fino al carcere per niente l'hai detto sì l'irith si gira neanche colpita non sembra neanche aver accusato il colpo e ti dice con una totale naturalezza cara mia anche se tu avessi quella chiave e anche se ti ci mettessi cento anni non saresti capace neanche di scalfire la prima linea di codice la differenza tra me e te è che io con quella chiave posso decifrare tutto quanto però dovete riprendere la chiave nemmeno tu ce l'hai quella chiave ricordo bene sì perché ce l'hanno loro loro con chi? Mephistopheles quindi Voodoo Boys mandate fidatevi bene separiamo le signorine che stanno diventando troppo acide per i miei gusti lo guardo freddissimo quindi beh dai non siamo andati là per nulla abbiamo una simpaticissima signorina qua che di cui probabilmente sta già sbavando JJ no fa leggermente sta cromata come la motocicletta che deve ancora mostrare questa utilità tra l'altro effettivamente è vero beh sì andiamo dai Voodoo Boys la sede dei Voodoo Boys si trova a Pacifica è una un complesso che una volta era probabilmente un distaccamento dell'università e poi è diventato riutilizzato per delle come base per tanti piccoli attività locali commerciali adesso è un insieme di tunnel graffittato con i graffiti fluorescenti che è il marchio di fabbrica dei Voodoo Boys che raffigurano appunto miti haitiani che derivano dalle leggende dalle mitologie o dalla religione haitiana ad aspettarvi sulla fine di un paio di scalinate di fronte a voi ci sono tre tizi che stanno palesemente consumando delle dorfine le stanno fumando droghe leggere mentre passo davanti a questi graffiti fosforescenti strani eccetera eccetera giro adesso i miei compari faccio beh noto una certa eleganza in questo popolo lo chiamo popolo apposta e questi tre e indico quelli sulle scale che stanno facendo che cavolo stanno facendo credo stiano consumando qualcosa che li possa intrattenere mi avvicino a loro buon suor madame se ne è uno il più alto di tutti i capelli lunghi raccolti a coda e gli occhi sono molto chiari ti guarda ah e tu non si vede gente di questo tipo da queste parti soprattutto in queste ore sai stai iniziando a calare la sera non è che avrai paura? no no non ho paura e estraggo una una bustina ve la passo ma guarda che bel regalo di benvenuto la prende cosa che gli hai detto scusami ci fate entrare? beh dipende chi state cercando Mephistopheles appena dici Mephistopheles si irrigidiscono tutti e tre adesso siete voi che avete paura non è tanto paura quanto sono andati sull'attenti no paura no ma beh porta della roba buona che idea di Mephistopheles guarda gli altri due portiamoli dentro grazie vi fanno cenno di seguirli vi portano in un dedalo di tunnel e sottopassi con queste appunto luci al neon che si accendono e si spengono fogli di giornale ogni tanto trasportati da un lieve vento della metropolitana che passando crea una corrente d'aria i graffiti fosforescenti coprono totalmente i muri e sono molto belli in realtà da vedere comunque come mai state cercando Mephistopheles indico Roxy idem beh credo che sia una cosa che dovremmo discutere con lui non pensi? beh contattare Mephistopheles non è così semplice e ci mettiamo ci esponiamo leggermente ma oh non sono cazzi me d'altronde non lo faccio io chi è che l'ha fatto l'ultima volta? beh mi pare forse è stato Krieg sì sì forse lo farà lui questa volta ok comunque nella bustina c'è anche il mio biglietto da visita con il numero bravo perché gli affari di Wayne nel frattempo Roxy il tuo agent blipa un messaggio Kaito ti ha mandato l'ultima BD ma io una domanda perché io Kaito non ci conosciamo cioè questa cosa no ti conoscete perché lui ti sta mandando tu sei lo spacciatore delle sue BD ah ok quindi ci conosciamo in maniera indiretta è professionale professionale ok domanda perché non so se funziona come in cyberpunk quello più avanzato posso rispondere all'agent senza digitare oppure sì ok allora gli rispondo dicendogli grazie è molto utile se vuoi quando le acque si saranno calmate potrai venire a suonare nel mio locale ah ovviamente lasciando i proiettili a casa e alleggo un tipo un'immagine come se fosse un bacio dato con il rossetto ma rossetto blu e glielo mando ok tra l'altro devi girare i suoi proventi di questa settimana sono 500 euro dollari a te 500 euro dollari a lui segnatevi ce l'avete veramente non sto scherzando ci penserò in un altro momento mentre state proseguendo per questo lungo corridoio questi uomini tra l'altro hanno questi gilet di jeans con le toppe alcuni di gruppi rock ce n'è uno che dietro ha una toppa enorme dei samurai mezza sgualcita in realtà non vi cagano molto quando passate per questi tunnel c'è della gente che era nicchiata per terra alcuni stanno guardando l'agent altri stanno col portatile stanno magari scrivendo codici alcuni giocano ai videogiochi alcuni provano a fare coprogramming quindi unendo due portatili e così via finché a un certo punto arrivate in una stanzetta attraverso uno di questi tunnel girate in un piccolo vicolo e una porta con delle perline fosforescenti divide divide da una piccola stanzetta dalla quale penzolano dal soffitto dei fili con monili haitiani della magia voodoo un mix di religione haitiana e voodoo che sapete benissimo non essere proprio la stessa cosa simboli psichedelici immagini psichedeliche sullo sfondo e in mezzo c'è un tavolino seduto al tavolino c'è questo famoso Krieg di cui parlavano è un tizio molto grosso avanti con l'età ha la barba un po' bianca e i capelli ricci però raccolti indietro e quindi ha questo questo scopettone al posto delle dei capelli e gli occhi sono bianchi cibernetici nel senso i bulbi oculari completamente bianchi che vi vi fissano allora anche lui ha la voce bassa ehi cium buon so senta noi avremmo bisogno di un vostro servizio sì dobbiamo parlare o comunque entrare in contatto con Mephistopheles andiamo dritti al punto non voglio stare qui a rompermi il cazzo più di tanto e chi vi manda? Archangel e anche gli altri lo dicono ah ma vogliamo esatto ma lo dicono proprio perché non avete detto prima che vi mandava Archangel sì va bene sì ma voi siete amici di Archie amici diciamo che più o meno abbiamo eh sì amici 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 di Archie il francese non capisce mai niente e comunque non per dire ma Lilith è completamente innamorata di me quello più anziano ti guarda con fare abbastanza interrogativo no lasciate stare come se non avesse minimamente capito che cosa hai detto è un maniaco non vi preoccupate va bene quindi volete contattare la piccola Alba sì esattamente proprio quella lo oui volete contattare Mephistopheles avete detto che siete amici di Archangel va bene però sappiate che contattare la piccola Alba non è così semplice è un percorso che porta decisioni dalle quali non si può più tornare indietro ma ci siete convinti va bene pensavo doveste alzare solamente una tornetta o qualcosa è simile sedetevi e vi indica il tavolo mi siedo sul tavolo mi porti sul tavolo la sedia e mi vado a sedere sulla sedia questi bias mentre vi sedete l'uomo Craig inizia a prende da una da una scatola un qualcosa che sembra tipo incenso e inizia a cospargere il tavolo di laminato con questo questa sorta di incenso lo mette in cerchio attorno a davanti a voi poi prende da un armadio nell'oscurità contate che questo posto è piccolo è molto scuro e in realtà adesso pian piano gli altri componenti dei voodoo boys stanno iniziando a spegnere le luci poco alla volta quindi la luce sta diventando sempre più fioca finché non rimane una sola lampadina in caldescenza penzolante al muro l'uomo inizia a bofunchiare tra se poi prende una scatola e con una reverenza religiosa prende uno scatolotto estrae dalla scatola uno scatolotto bianco con suo scritto in rosso US Robotics 56k e lo mette al centro del tavolo prende un affare che assomiglia a un microfono con una base piatta con scritto trust sopra e lo mette a fianco allo scatolotto ripone la scatola prende dei cavi e collega il microfono allo scatolotto e lo scatolotto lo attacca a delle fibre di rete io do di gomito a a Roxy non so che ho più vicino tutte e due penso tutte e due e ehi quella roba mi sa che Steve Balmer la conosceva tu non hai più po' l'idea di cosa sia quella roba infatti io guardo un momento un rito satanico no è roba di di quando c'era ancora una rete decente nel frattempo il Krieg sta iniziando con l'accendino a dare fuoco a a questo incenso che pian pian inizia a cospargere a riempire l'aria e le vostre teste pian piano iniziano a vagare un po' di più sempre un po' di più i rumori iniziano a sì sì è molto rilassante in realtà Krieg inizia a intonare noi ti evochiamo piccola alba noi qui presenti desideriamo evocare il sacro Mephistopheles poggia le mani sul sullo scatolotto bianco noi ti evochiamo ti prego dacci un segno e mentre mette le mani sentite un rumore da venire dallo scatolotto io sto capendo cosa sta succedendo vero è tipo che sono più insodisi io sogginio c'è qualcosa di strano però in questo rumore senti che il rumore è sempre più basso più lento e più avattato sempre più avattato i rumori iniziano a rimbombare nella vostra mente in maniera sempre più lenta Little Sunshine noi ti cerchiamo siete pronti quindi voi tre a varcare la soglia? certo con un 56k andremo un po' lenti ma sì sì allora andiamo sì perfetto mentre quello che dirà tra poco Krieg esce dalla sua bocca vi provoca qualche lieve allucinazione quindi rispondete di conseguenza camminiamo in un deserto secco arido le nostre lingue sono arse dalla sete guardiamo in terra e vediamo una testuggine allunghiamo la mano e la rovesciamo sul dorso la sua pancia arrostisce al sole rovente agita le zampe cercando di rigirarsi in un misero atto di sopravvivenza estremo non può rigirarsi senza il nostro aiuto ma noi non lo facciamo perché rispondete ognuno di voi secondo coscienza perché siamo stronzi perché la legge del più forte il debole deve morire bene queste sono le vostre risposte queste verranno consegnate al sacro mefistofeles e adesso se le risposte che avete dato sono state considerate degne riceverete un messaggio da lui passano alcuni secondi in cui delle immagini psichedeliche annebbiano la vostra mente vi sentite in uno stato di trans spirituale e rilassatezza quando a un certo punto un rumore interrompe questa vostra idillio è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, ok. Allora, è codice binario. Codice binario si può trasformare in numeri o lettere, essenzialmente. Detta proprio male, 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 male. Se provate a fare una conversione in numeri, esce fuori che la prima stringa è 3522083. La seconda è 12052017. Sapete dove andare, vi dice Krig. Sarà un indirizzo? Mi possono sembrare delle coordinate? Potrebbero sembrare. Se ti sembrano delle coordinate, sì, potrebbero essere delle coordinate. Ovviamente per farlo dovresti provare a dividerle. Quindi verrebbe 35 gradi, 22 primi, 08308.3 secondi e l'altro sarebbe 120 gradi, 52 primi e 01.7 secondi. Io proverei a metterlo su Google Maps. E in mezzo al mare? In Cina? In Cina. In Cina. Diamo fammi deduzione, va? Va tutto bene. Sì, sì. Allora, quella longitudine potrebbe anche starci. Ma è quel 120 che non ci sta. Molto probabilmente potrebbe essere meno 120, dato che quello è vicino invece a dove siete voi. Comunque, se lo cercate sul vostro agent, arrivate a scoprire che si tratta di Morro Bay. Ah, Morro Bay, ok, trovata. Ma, ok. E dove c'è Night City. Queste sono le coordinate di dove sarebbe realmente Night City. Dovrebbe essere Night City, ok. Morro Bay, quindi è un posto, è un isolotto poco fuori Night City. Senza queste ottiche non ci vedo un cazzo. Non so nemmeno perché sto facendo questo video o perché lo sto mandando. Forse è perché ho bisogno di spiegare tutto questo. Perché qualcuno non veda quello che faccio come un'opera solitaria. Ma più come il nodo di un'architettura più vasta. Sono a scuola, verso la fine del liceo. Ero uno di quei ragazzi che prendono voti mediocri, senza stimoli, circondato da ragazzini stereotipati, troppo preoccupati a seguire le tendenze senza sapere chi o cosa volessero essere. Quando li sento parlare tra di loro, mi annoia una morte. E la stessa cosa succede con quello che mi fanno ripetere a pappagallo durante gli esami. I miei professori non sanno niente. Niente che non sia già scritto sui testi che ci propinano. E questo succede perché non sono minimamente interessati... Non sono interessati a me, non sono interessati al mio sviluppo come essere umano. Penso che gli interessi sono scappare dal loro schifoso posto di lavoro il prima possibile, guardando l'orologio ancora più ansiosi dei miei compagni di classe. E poi ecco, ecco che conosco tre persone che condivideranno con me gli anni a venire. Eravamo simili per un certo senso. Volevamo conoscere, esplorare, aprire le cose e capire il perché e il come funzionassero. Gli esseri umani non li capirai mai. Sono solo bugiardi. E lo sono prima di tutto a se stessi. Figuriamoci verso gli altri. Ma invece una riga di codici, un circuito elettrico, non ti mentono, non ti giudicano. Sono lì pronti a fornirti una verità cristallina che non troveresti mai, nemmeno nel migliore degli esseri umani. È stato lì che ho scoperto l'amore per la verità. È stato lì che ho scoperto quanto la società sia una struttura basata solo ed esclusivamente sulle menzogne. C'è una frase che mi torna spesso in mente e che avevo letto da qualche parte, ma non ricordo dove. In filosofia, nella religione, nell'etica o nella politica, poteva accadere che 2 più 2 facesse 5. Ma quando si trattava di progettare un fucile o un aeroplano, 2 più 2 doveva fare 4. Notte ciubatta. Grazie.